In collegamento, Eurovision, Mondovision, Sevedan Tube, NVC, Radio Television, Toilet of New York, California, with video virtually. Siamo collegati con la NVC, Radio Television, Toilet of New York, vedete che qui siamo a Brooklyn, il famoso ponte della gomma che speriamo non si sciolga e siamo appunto collegati con Video Vercelli, mi auguro che ci sentiate bene, vi sentite bene? Ci sentite bene? Vi sentite bene lì in fondo Video Vercelli? Ci sentiamo quasi bene. Se non vi sentite bene ditelo che vi mandiamo un dottore, scusate perché abbiamo un po' di traffico, qui sapete che siamo a Fox Square Revenue Corporation e qui in New York è una città molto molto movimentata, il traffico logicamente è molto forte. Come va Video Vercelli? Non so se il satellite va bene perché l'abbiamo mandato su con lo Space Lab, l'abbiamo spedito su prima con alcune bustine di del Tide, ci sentite bene? Come va in fondo? Ci sentite bene? Scusa? Sì? Parla più forte perché non ti sento. Scusa? Sono Audone. No scusa, non ti sento, parla più forte. Mi senti? Sono Audone, mi senti? Non ti sento, parla più forte. Sono Audone! E non gridare Audone, ti sento dai, parla pure. Dimmi, dimmi, cosa c'è Audone, dimmi. Ecco, volevamo sapere un po' come sono le condizioni del tempo, come si sta negli Stati Uniti. Sì, vuoi che te lo dico in inglese? Sì, te lo dico in inglese? Dicelo in inglese. Benissimo, allora qui il tempo è favoloso, veramente very fabulous e il tempo è ottimo, ha tempestato tutto il giorno e difatti alcuni negri hanno perso il colore e sono diventato bianchi. Ti serve qualche altra notizia? Dimmi, dimmi, Audone. Ecco, vediamo un po'. Come Audone non ti sento, Audone. Dacci delle indicazioni. Audone non ti sento, parla più forte. Per confermare questa diretta. Parla piano, Audone, ti sento, non è il caso che gridi. Dimmi, dimmi. Per confermare questa diretta che stiamo realizzando, dacci alcune indicazioni proprio per sottolineare. Vuoi un'indicazione? Dove vuoi andare? Dimmi. Diciamo, ecco, dacci qualcosa. Non so, cosa ti serve? Un po' di moneta? Ma non so se via satellite, mi dicono che è impossibile via satellite mandarti della moneta, non so. Dimmi Audone. Ecco, vediamo di sottolineare. Come Audone non ti sento, parla più forte, Audone. Vediamo di sottolineare questa... Non sento, Audone, parla più forte, non ti sento. Parla più forte, Audone. Vedo che sta arrivando la moneta, Audone, cosa sai? Me la mandi tu la moneta? Scusa, qui ho detto che ti serve della moneta. Ecco, questo è un nuovo collegamento. New York è una città molto ricca, voi sapete, è una città ricchissima. Che abbiamo tentato. Dove più o meno monete anche dai grattacieli, qui a New York Square Garden, di New York Square... Come dicevi, Audone, scusa, non ho... Ecco, abbiamo tentato questo passaggio della moneta, veramente... Sì, Audone parla più forte, Audone, non ti sento. È una prima... Parla piano, Audone, perché gridi, scusa, non riesco a capire... Allora, dimmi, è una prima... Che abbiamo tentato via satellite per trasportare la moneta. Volevo sapere, dici qualcosa, che ore sono a New York? Ah, per dimostrare che siamo in diretta con New York. Dimostriamo che siamo in diretta. Allora, esattamente sono... Scusi, allora? Scusi, allora, non allora, il signore, scusa, per confermare comunque sono esattamente qui a New York, ora legale di Greenwich, sono esattamente le 11 e 25 minuti primi, eh? Esatto? Esatto? Forse... Come è, Audone? Prova a guardare meglio sul tuo orologio, perché sono le 11 e 33. No, no, scusa, Audone, tu... Scusa, scusa, Audone, questo è un orologio preciso, l'abbiamo comprato proprio qui all'angolo, qui a... Vedi, questo palazzo, due passi dietro, l'abbiamo comprato lì, c'è un negozio di pasticceria, e abbiamo preso questo orologio, sono le 11 e 25, e 35 minuti primi, Audone, a questo momento, minuto, secondo, ottengo, sono le 11 e 34. Greggio, per favore, non fare storie, insomma, siamo in diretta. Senti, la cosa precisa è questa di New York, va bene, qui siamo a New York, con due F, come Parigi, per cui Audone non tirare fuori scavolate, che qui siamo... Ho detto che è quest'ora qui e non mi romperai le scatole, oh, porca Martina. Quando io dico che sono queste ore qui, perché non devono essere queste ore qui? Siete collegati con New York, vi ricordo, con Ezio Greggiovic, e siete collegati con la NVC, NVC come Radio Television, oi, cos'è che fai adesso? Qui abbiamo finito l'ora di andare a mangiare. Ma come è finito l'ora di andare a mangiare? Ma è due ore che... New York, se abbiamo la scenografia, mi porti via e tu da la scenografia... Ma come va? Qui abbiamo finito, l'ora è terminata, mi schiassi, cioè, qui devo andare a mangiare a Greggio. Ma come vai a mangiare a Greggio? Mi vado a mangiare a Greggio. Ma qui siamo a New York, ma sta zitto, ma porca, ma io dovrei... Scusate, siamo a New York, scusate, mi metto un po' più... Qui siamo a New York, siamo a New York, bella gente, New York, vabbè, a voi studio telegiornale, taxi! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.